L'operazione Vannacce è chiusa? No, lo stimo come persona, ne condivido una buona parte di idee, non tutte. Se vorrà portare in Europa le sue battaglie di libertà con la Lega, ne sarò felice, però ci stiamo ragionando. Perché all'interno del suo partito non sono molto contenti? No, 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 mi sembra che internamente il riscontro sia, tranne qualche voce... Il centinaio dice che il generale rischia di sottrarre più voti di quanti ne porta, pure Romeo dice che tante dei divannacci non sono condivise. La Lega è arrivata a essere quella grande forza che è perché ha aperto le porte anche a chi non ha la tessera di partito in tasca. No, però lei lo direbbe mai che gli omosessuali non sono normali? No, per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale. L'ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata di qualcuno.